Un saluto dal Tg della mobilità. Da lunedì 9 maggio su alcune preferenziali della città entreranno in funzione una serie di dispositivi per la rielevazione automatica dei transiti. Alla base di questo provvedimento l'intenzione di dissuadere da comportamenti illegittimi tutti coloro che non sono titolati a transitarci. Tutto ciò a vantaggio della velocità commerciale dei mezzi pubblici sul sito romamobilita.it è possibile consultare l'elenco completo di tutti i siti dove varrà avviata la rilevazione automatica dei transiti precedentemente non prevista. E ancora sino a domani sulla tangenziale sono previsti lavori notturni tra le 22 e le 6 di rifacimento del manto stradale nel tratto compreso tra Viale Tordiquinto e Corse Francia in entrambe le direzioni previste chiusure. È tutto appuntamento alla prossima edizione.